eccoci e bentornati sul mio canale nuovo video informativo giornaliero sul mondo di call of duty come sempre prima iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace arriviamo a 500 per il prossimo appuntamento con il tg informativo oggi è un giorno molto importante perché activision e tre gli architerranno una live stream o meglio un evento a san diego durante il comic con appunto di san diego proprio oggi saranno svelati tantissimi dettagli in merito alla modalità zombies di call of duty black ops 4 infatti ci saranno jason blandelle l'executive producer in craig houston il lead writer che per celebrare i dieci anni dall'anniversario del call of duty di zombies parleranno appunto di tutta la storia zombies e di tutto il lavoro che è stato fatto da parte del loro studio per call of duty black ops 4 modalità appunto zombies è un giorno molto importante perché saranno svelate veramente tantissimi dettagli avete visto come nei giorni passati sono stati svelati i trailer immagini che avete trovato appunto sul mio canale youtube ci sono delle informazioni veramente molto ma molto importanti che invece sono state trapelate nella notte perché si è parlato a quanto pare di armi speciali e addirittura dell'intro per quanto riguarda appunto blood of the dead la versione remake di mob of the dead praticamente sembrerebbe che la crew quindi la squadra del chaos quindi questi nuovi quattro personaggi che troveremo nella modalità zombies abbiano praticamente delle armi speciali che potranno essere equipaggiate prima dell'inizio della partita ad esempio show ha una spada scarlet ha un bastone poi c'è l'harpon per diego e l'hammer per quanto riguarda bruno anche per quanto riguarda la crew dei primis quindi legato questa volta e quindi passiamo a blood of the dead sembrerebbe che ci saranno delle armi speciali per richtofen la ragnarok di g5 la minigun per demse il lancia fiamme per nicolai e ovviamente la katana per takeo sembrerebbe che sia stata svelata anche la cinematic quindi l'intro per quanto riguarda blood of the dead la crew dei primis sembrerebbe che entri all'interno di una prigione attraverso un buco nel muro richtofen per quanto riguarda la sezione comic dei zombies consegna ai primis un set di fiale di sangue e poi se ne va mentre richtofen dei primis sta tenendo un portale che vuole essere chiuso a quanto pare da brutus prima che l'equipaggio possa scappare all'interno di blood of the dead si parla di una mappa notualmente più grande rispetto a quella originale di mob of the dead con sezioni sia nuove che vecchie e i giocatori a quanto pare dovranno deporre le uova all'interno del laboratorio del creostatis e per finire un'altra notizia che arriva sempre appunto da questo post apparso su reddit sembrerebbe che la folla all'interno dello stadio della mappa 9 risponda alle azioni dei giocatori quindi ci sia animazione per quanto riguarda il pubblico all'interno di questa sorta di arena di stadio queste tutte le notizie trapelate appunto nelle ultime ore per quanto riguarda la modalità zombies di call of duty black ops 4 domani mattina torneremo con un nuovo video dedicato con tutti i dettagli appunto dell'evento di san diego dedicata appunto a black ops 4 vi ricordo che purtroppo l'evento non si potrà seguire il live stream perché non ci sarà appunto una live stream dell'evento di san diego da parte di tryarch ed activision quindi non potremo seguirlo in diretta qui sotto ai commenti fatemi sapere che cosa ne pensate arriviamo a 500 piacere il prossimo video informativo e noi ci vediamo con tanti nuovi video